I medici hanno fatto di tutto per salvare una giovane vita, ma per Mario De Meo non c'è stato nulla da fare. Il ventunenne si è spento dopo cinque giorni di agonia. Il 25 settembre scorso Mario era a bordo di un Alfa Romeo insieme con altri due ragazzi. L'auto si schiantò contro un tir sul ponte di Viale Europa al quartiere San Paolo. Il guidatore risultato positivo all'alcol test ne uscì illeso insieme all'amico seduto al posto del passeggero. Mario, che era seduto sul sedile posteriore a causa del forte impatto, finì subito in coma. Nel caso venissero accertate ulteriori responsabilità, è probabile che verrebbe a configurarsi l'ipotesi di omicidio colposo. Il quartiere Stanice, in particolare il villaggio del Lavoratore, dove Mario De Meo viveva insieme con i suoi amici, ha organizzato ieri una fiaccolata per ricordarlo. Presente alla manifestazione l'assessore allo sviluppo economico Carla Palone, residente del villaggio del Lavoratore, e che ha visto crescere il 21enne. Il mio appello è quello di andare piano con le auto, di avere più responsabilità per la propria vita, ma anche per quelli che sono intorno. Perché la famiglia, gli amici, e ieri eravamo in centinaia al villaggio a ricordare Mario. Auguro che la giustizia faccia il suo corso e più o meno proviamo a trovare un po' di serenità, anche se è davvero difficile.